Buonasera e benvenuto a questo nuovo appuntamento con tradire il fare argomento scelto per questo venerdì Natale in Irpinia travertenze e problemi perché purtroppo non mancano negli uni negli altri a in questa mezz'ora a tenermi compagnia sarà a Antonio Famiglietti della CGL che innanzitutto ringrazio per aver accettato il mio invito. Antonio dicevamo il tema scelto Natale in Irpinia travertenze e problemi cominciando proprio dal primo punto c'è un'avvertenza abbastanza fresca per così dire che preoccupa in queste settimane e stiamo parlando della Novo Legno. Cosa accade? Ma la avvertenza della Novo Legno è un'avvertenza che praticamente sta preoccupando non poco tutti quanti noi perché praticamente ci troviamo di fronte diciamo al tentativo da parte di un'azienda presente da anni in Irpinia di abbandonare il campo e di lasciare sul campo praticamente 50 licenziamenti con un ridimensionamento molto forte dell'azienda. Io sono molto fiducioso perché sto vedendo in questi giorni intanto l'attivismo della categoria del sindacato complessivamente un'attenzione da parte del comune ma soprattutto anche una vicinanza da parte della regione Campania e quindi con un nuovo appuntamento che è fissato per il 13 di gennaio con delle opportunità che sono offerte all'azienda rispetto alle possibili come dire situazioni che ci stanno dal punto di vista come dire di aiutare la crescita e il mantenimento di quella realtà importante nella nostra provincia. Poi c'è un tema che è il tema praticamente di come noi dobbiamo praticamente salvaguardare i livelli occupazionali e come questo si intreccia con la necessaria salute, le questioni ambientali, la sicurezza che non possono essere come dire delle cose che viaggiano a parte per cui da questo punto di vista noi chiediamo alle aziende praticamente sia di investire e rimanere in questa provincia ma anche di fare degli investimenti che vadano a potenziare questa cosa. Mi sembra che la sensibilità delle persone rispetto ai temi ambientali sia molto diversa rispetto al passato. Noi difendiamo i posti di lavoro ma difendiamo anche quello che è come dire l'ambiente e la realtà dove praticamente si vive. Voi come CGL come interpretate questo atteggiamento da parte della Nuvo Legno e mi spiego meglio perché all'improvviso questa importante azienda che come ricordavi tu opera sul nostro territorio davvero da moltissimi anni ha preso questa decisione di eventualmente ridurre anche se molti dicono la riduzione di produzione potrebbe essere l'anticamera dell'abbandono definitivo della Nuvo Legno in Irpinia e invece c'è in Vesta se non sbaglio in Friuli. C'è un problema di questo tipo di dove praticamente sono destinati gli investimenti. Da un poco di anni che la Nuvo Legno praticamente in Irpinia e nella nostra provincia non destina investimenti c'è una sostanziale ritirata da un certo punto di vista dell'azienda anche in altri atti e in altre situazioni che ci sono stati. Quindi c'è da questo punto di vista una preoccupazione ma c'è anche come dire una difficoltà del mercato praticamente che non riceve la produzione che praticamente c'era prima e c'è anche una situazione che io credo dobbiamo necessariamente affrontare che quello di creare quelle situazioni di maggiore sinergia con il territorio per far sì che la Nuvo Legno come dire non è un ospite indesiderato in questa provincia ma è una importante realtà e un gruppo come dire che va oltre l'Italia insomma che ha presenze in tutta in Europa e che è importante farlo rimanere in Irpinia. Io credo che bisogna creare il giusto mix fra l'esigenza di tutela del territorio l'ambiente ma da questo punto di vista la Nuvo Legno deve come tutte le altre aziende che in questa situazione deve metterci anche qualcosa di proprio oltre alle sinergie praticamente istituzionali che è giusto che si creano non solo in questa vertenza ma in tutte le vertenze dove sono a rischio i posti di lavoro delle persone quindi il lavoro che in una provincia come questa non c'è è il dramma vero noi non possiamo fare in modo che il lavoro che già ci sta come dire venga ulteriormente ridotto. Noi veniamo da anni dove praticamente le chiusure ne sono state tante oggi come dire se andiamo a vedere quali sono le aziende chiuse che non hanno mai più riaperto ne sono tantissime quindi gli effetti della crisi continuano ancora cioè la crescita non c'è da questo punto di vista e per cui noi dobbiamo adoperarci per questo e per fare in modo che rimangano aziende come la Nuvo Legno e come altre che stanno vivendo difficoltà in questa nostra provincia. Stiamo parlando come dicevo dall'inizio dei vertenze e problemi che caratterizzeranno purtroppo anche questo Natale in Irpegna. Per voi che ci seguite da casa la possibilità eventualmente di intervenire a vostra disposizione il nostro centralino attraverso lo 0825 31 399. Se ci spostiamo dal Nuvo Legno a non molta distanza Antonio c'è la Meridionale Alimenti azienda che come tante altre che insistono a piano d'ardine negli ultimi mesi è stata visitata dai Noe dopo una serie di esposti e di denunce presentati dai cittadini del posto perché da sempre lamentano l'inquinamento in quella zona, le persone avvertono soprattutto durante l'arco della giornata cattivi odori, presenza di insetti, una situazione per loro davvero pesante a tratti addirittura insopportabile e anche in questo caso subito dopo si è presentata anche appunto la vertenza Meridionale Alimenti. Ma io lo dicevo prima ma io ne sono fermamente convinto che oggi il problema dell'ambiente, il problema come dire di assicurare la salvaguardia praticamente dei livelli di accettabili occorre che praticamente si tuteli l'ambiente. Per tutelare l'ambiente voglio dire ci sono tanti soggetti che hanno tante responsabilità e queste responsabilità vanno fatte, come dire, vanno svolte appiene. Da troppo tempo che su piano d'ardine, Montefredane ci sta, non casi isolati, ma ci sono come dire attenzione della gente, sensibilizzazioni continue rispetto ad un deterioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza e da questo punto di vista noi non possiamo come dire essere distratti. Occorre che ci siano come dire gli investimenti giusti, le attenzioni giuste e le situazioni, perché poi si sommano le situazioni nuove con le situazioni che praticamente stavano in precedenza. Vedi isochimica dove praticamente è un problema annuso che in questi giorni, grazie all'interessamento e al lavoro della procura, finalmente si fa un processo su queste questioni, sulle tematiche abbiandali. Io credo che la provincia nostra, ma è un dato generalizzato, sulle questioni dell'ambiente, sulle questioni della tutela della salute delle persone, deve continuare e si deve adoperare, come dire, in sinergia. Non è, come dire, un problema di quelle persone che magari scendono in piazza, che denunciano quelle cose, ma è un problema di tutti e che investe a tutti nella responsabilità. Questo non significa che si deve andare in contrasto con, se una fabbrica, come dire, ha problemi di carattere ambientale, non è che si licenziano i lavoratori, oppure si scaricano sui lavoratori problemi. C'è un problema che fa, come dire, l'imprenditore, ma chi deve adoperarsi per innovare, fare le scelte innovative da questo punto di vista, le faccia e si difendano soprattutto le persone che lavorano attraverso quelle che sono le forme migliori, ma soprattutto creando, facendo mantenere i posti di lavoro e lavorando perché ci sia, come dire, un'occupazione stabile, sicura e ambientalmente, come dire, ben integrata. È di questi ultimi giorni anche una nuova, tra virgolette, nuova polemica che riguarda lo stir di Piano Dardine per quanto riguarda la questione dell'ampliamento. Non sono mancate polemiche in Consiglio Comunale. Questa mattina l'abbiamo trattato anche come argomento all'interno del Tg. La Capogruppo Consigliare di Sipurna di Arace ha lanciato anche una sfida a coloro che hanno detto no all'ampliamento e dice ora dimostratelo nei fatti e rifiutate le deleghe. La vostra posizione qual è? La posizione nostra è che rispetto a queste questioni occorre, come dire, fare attenzione nel rispetto, come dire, di quelle che sono le condizioni in cui versa l'area di Piano Dardine. Me personalmente appare molto, come dire, queste continue forzature da parte della regione di insediare a Piano Dardine in una zona a rischio dove ci sono, come dire, di insediare stazionamenti, diciamo, impianti di questo tipo che si vanno ad insediare in una zona, come dire, che già di fatti è una polveriera da questo punto di vista. Allora occorre che si facciano le riflessioni giuste e che si metta, si facciano delle cose che poi non vanno a peggiorare quella che è la situazione, ma che soprattutto vadano a vedere quali sono le condizioni migliori. Piano Dardine da questo punto di vista abbiamo un problema, io credo, di bonifica, abbiamo un problema, come dire, di interventi e di attenzioni rispetto a queste cose, per cui situazioni di questo tipo sicuramente vanno ad intervenire su quelle che sono praticamente le difficoltà già critiche che ci sono. Anche qua, come dire, si tratta sempre e comunque di salvaguardare l'ambiente e il lavoro. L'ambiente e il lavoro. Chi lavora deve lavorare in un ambiente pulito e soprattutto chi vive in quelle situazioni deve stare in un ambiente sicuro, quindi perché questo credo sia un binomio che praticamente deve andare avanti e con queste cose. Per cui la Regione, come dire, chi deve fare queste scelte le faccia in maniera ponderata e assicurando soprattutto queste questioni. Se tutti questi punti fino a questo momento trattati rappresentano purtroppo solo una parte marginale dei problemi che al capoluogo irpino, tutto ciò che accade in Alta Irpinia è anche peggio, tu soprattutto negli ultimi mesi sei maggiormente interessato all'Alta Irpinia. Com'è la situazione in provincia? La situazione in provincia è nettamente diversa dalla città, dall'Interland Avellinese, sicuramente ci sono meno possibilità e meno opportunità. C'è un fenomeno diffuso, come dire, di lavoro che non c'è, che riguarda anche ad Avellino, ma riguarda molto anche nell'Alta Irpinia, nei tanti comuni dell'Alta Irpinia, non ci sono possibilità, prospettive, non si intravedono quelle che sono, come dire, le condizioni per migliorare la vita dei giovani che sono in cerca di lavoro, ma non sono solo i giovani, sono anche le donne che, come dire, non hanno nessunissima opportunità di lavoro, padri di famiglia, le aziende, come dire, ci sono le aziende storiche che hanno chiuso, sono, si contano, come dire, gli insediamenti industriali sono molto, molto, che scarseggiano da questo punto di vista e c'è un'economia che praticamente dà sempre meno opportunità di lavoro e di ricchezza, di ricchezza diffusa. Teniamo situazioni che per quanto riguarda, come dire, la gente cerca anche dal punto di vista di trovare quelle situazioni e quindi ricorre a quello che è rimasto degli ammortizzatori sociali, le briciole praticamente degli ammortizzatori sociali che praticamente cerca di utilizzarli al meglio e quando ci sono le condizioni. La qualità della vita da questo punto di vista io vedo che in provincia, nella nostra provincia praticamente è scesa di molto. Ci sono delle opportunità, possibilità, io credo che per esempio si parli in provincia, soprattutto in Altirpini, a progetto pilota e quant'altro. Io tutte queste questioni di litigi che praticamente ci sono e cose, io credo che la politica ancora una volta da questo punto di vista deve dare prova di efficienza in una situazione di difficoltà e di problemi che praticamente ci sono, prove di unità per costruire le condizioni migliori per migliorare la qualità della vita ma soprattutto per assicurare alle persone il lavoro, per dare operare e non litigare. Operare e non litigare. A me interessa poco se come dire un sindaco fa casino con l'altro sindaco. Può fare notizia, pettegolezze insomma, però poi a me mi interessa se quel sindaco che è l'altro sindaco che ha risposto al litigio praticamente, assieme trovano le condizioni migliori per essere pronti quando praticamente le risorse come dire arriveranno da questo punto di vista e quanto di quelle discussioni praticamente si tramutano in lavoro, in occupazione, in opportunità soprattutto per i giovani. Certo. Questo è la... Immigrati non se ne parla più o se ne parla di meno? Perché? Tu hai detto bene, sicuramente non se ne parla più, ma se ne parla molto molto in meno. Questo non significa che il problema non c'è. Io credo che in questa provincia noi siamo stati anche come CGL dal punto di vista delle questioni, di sollevare le questioni che riguardano gli immigrati, quelli che hanno denunciato prima di altri e che poi in tutta Italia praticamente si è visto che cosa e come erano le condizioni di questi immigrati, quali come dire livelli praticamente di connubio c'erano anche dal punto di vista della... dello spreco delle risorse pubbliche, mettiamola su questo punto di vista. Quindi abbiamo, come dire, sollevato delle questioni. Io credo che queste questioni che noi abbiamo sollevato ci sono ancora tutte, a partire dalle questioni della sanità che non risponde praticamente a questi, agli immigrati, a partire dalle condizioni praticamente di vita di queste persone, sovraffollamento e quant'altro, a partire anche da questioni che riguardano, come dire, l'approccio e il tipo anche, come dire, di garanzia dal punto di vista della stessa legalità, come dire, che è garantita, delle condizioni minime che vengono date per queste persone. Il collega Ottavio Giordano ha realizzato un servizio con Don Vitaliano della Sala e da Don Vitaliano è partita una provocazione davvero molto forte, ha realizzato il presepe con Gesù Bambino, a pezzi, come interpreti. Intanto io voglio personalmente complimentarmi con Don Vitaliano della Sala, perché qui non solo quest'anno ma anche l'anno scorso ha reso l'idea... Gesù Bambino nel Gommone l'anno scorso. Gesù Bambino nel Gommone ha reso l'idea di che cosa significava il fenomeno dell'immigrazione. Oggi con Gesù Bambino fatto a pezzi io credo che è una situazione veramente straordinaria e noi possiamo immaginare quel Gesù Bambino fatto a pezzi della nostra provincia fatta a pezzi, dove ci sono, come dire, intere fasce sociali, generazioni che non riescono praticamente a trovare un loro equilibrio in una prospettiva praticamente di rimanere in questa provincia. Io per esempio vedo giovani, fiori di giovani in questa provincia che vanno praticamente a Milano non a fare un lavoro praticamente per quello che... Si sono diplomati o laureati? Si sono diplomati o laureati ma vanno praticamente con un contratto part time quindi con poche risorse, con poche cose insomma e magari se ne vanno e come dire sottraendo anche intelligenza. Per cui l'iniziativa di Don Vitaliano che io ho molto rispetto ma credo anche che oltre a queste cose io la vedo come una cosa che rende l'idea anche di che cosa praticamente la Chiesa ha la capacità a volte di rappresentare, di far comprendere in un periodo di festa e dove periodo di festa che Natale, che ci dobbiamo rivolgere a tutte quelle persone che praticamente hanno bisogno, che vivono in una situazione di difficoltà, questa rappresentazione del Gesù Bambino diciamo rotto, fatto a pezzi e cose varie, è una straordinaria opportunità per farci riflettere a tutti quanti noi. Io credo che l'esempio di Don Vitaliano è anche il lavoro che lui fa e lo fa anche in silenzio perché questa è la parte del lavoro che lui praticamente ha fatto, si vede che ovviamente diciamo ha la sua importanza e risonanza ma c'è anche un lavoro di solitarietà vera e di attenzione verso i deboli e verso quelle persone che praticamente hanno bisogno che è incomiabile e per cui gli va dato merito come dire di essere una bella e grande persona ed anche una bella rappresentazione di che cosa può essere la Chiesa in questa nostra provincia. Nella speranza che un giorno si riusciranno a mettere insieme questi pezzi ad aggiustare praticamente le cose, Antonio lasciamoci con un augurio per il nuovo anno, quale? L'augurio per il nuovo anno deve essere sicuramente quello che innanzitutto in questa nostra provincia si cerchi praticamente di fare squadra, c'è un grande bisogno di fare squadra, ma c'è un grande bisogno di fare squadra politica, forze sociali, chi a vario titolo tiene delle responsabilità in questa provincia per fare in modo che praticamente si ragioni in termini di crescita, in termini di opportunità e quindi in termini di creazione per il lavoro. Dobbiamo anche invertire la tendenza, noi siamo una provincia eccessivamente religiosa, dobbiamo fare meno viti, ci devono essere più proposte, ci deve essere un'assunzione di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle forze sociali a risolvere i problemi concreti, perché io credo che questa provincia nostra ha grandi potenzialità, ha grandi capacità che molto spesso le utilizziamo male e noi dobbiamo creare nella mente delle persone, nella mente dei giovani, di coloro che cercano lavoro in questa provincia che noi ce la possiamo fare e ce la possiamo fare se da questo punto di vista si guarda meno all'orticello che ognuno tiene dalle sue parti, ma se da questo punto di vista c'è una risposta e uno scatto d'orgoglio, perché se cresciamo e se questa provincia ha delle opportunità, cresciamo tutti quanti insieme, non ci sono come dire isole felici che si possono fare delle cose, allora le opportunità bisogna crearlo, ci aspettiamo molto e io credo che da questo punto di vista è l'augurio che ci facciamo anche come CGL, noi teniamo tre referendum su appalti, sulla questione dei diritti, il reinticro, l'articolo 18 sulle questioni che riguardano le garanzie e i diritti al lavoro, perché anche questo in questa provincia oggi è quanto mai importante e quanto mai essenziale, non solo assicurare il lavoro, ma assicurare un lavoro di qualità, un lavoro che come dire sia osseguioso e rispettoso dei diritti. Il tempo a nostra disposizione è finito, ancora grazie per aver accettato l'invito, grazie a chi ci ha seguito da casa, ma soprattutto a voi telespettatori auguriamo un sereno Natale e un felice nuovo anno, buon proseguimento. Grazie a tutti, grazie a tutti.